Caos presidenti e dirigenti Lega Pro a parte, martedì sera il terzo campionato di calcio ha vissuto un'altra giornata dir poco difficile. Alla scadenza della presentazione delle domande di iscrizione, infatti, tre società, Monza, Castiglione e Grosseto, non si sono presentate. Una al Barletta è più morta che viva. Altre undici, fra le quali il Pisa, hanno fornito delle documentazioni incomplete e dovranno fare ricorso e mettersi in regola entro il 14 luglio. E comunque subiranno dei punti di penalizzazione, così da iniziare il prossimo torneo con un po' di handicap. Per la Pistoia, sebbene sottolinearlo, non ci dovrebbero essere problemi. Almeno così assicurano davvia delle Olimpiadi. Il Consiglio federale della FIGC trarrà le sue conclusioni il 17 di questo mese. L'impressione è che alla fine ci possa essere un buco di 6-8 squadre. A quel punto scatterebbero ripescaggi che, tuttavia, per le formazioni di Serie D, hanno un costo a dir poco inarrivabile. 500.000 euro a fondo perduto valgono quasi mezzo bilancio di una stagione nella quarta serie. Possibile quindi che la nuova Lega Pro riparta con molte meno squadre delle 60 previste. E magari senza il criticatissimo numero uno Mario Macalli, che rischia il defenestramento politico sportivo.